Ecco, giovedì già a partire dal pomeriggio inoltrato è in programma la Festa della Luce. Giusto, dal pomeriggio la Festa della Luce, uno degli eventi più attesi nell'estate castionese, avrà inizio alle 15.30, dalla piazzetta vicino al semaforo i bambini realizzeranno la loro lanterna, una delle cose che preferiscono fare loro proprio perché poi la sera se la riporteranno e la potranno accendere. A partire dalle 16 invece inizieranno gli spettacoli degli artisti che si esibiranno a rotazione tra via Donizetti e via Fantoni. Gli orari precisi saranno visibili nei vari punti di spettacolo oppure consultabili sulla pagina Facebook di Turismo Presolana. Gli artisti si esibiranno sia al pomeriggio che alla sera, molti faranno degli spettacoli diversi, quindi invito tutti a venire sia al pomeriggio che alla sera, approfittando poi della possibilità di cenare all'aperto, visto che le previsioni e ci sbilanciamo saranno buone e approfitteremo. La serata si concluderà poi verso mezzanotte con una piccola sorpresa. Un altro appuntamento da non perdere è quello con la notte bianca. Assolutamente anche questo da non perdere, questa volta a Castione Capoluogo, lungo il provinciale che verrà chiuso come tradizione, diversi punti musica per accontentare le varie fasce d'età, dai bambini agli adulti ai ragazzi. E come gli ingredienti sono molti? Sì, ricordo tra i tanti la possibilità di cenare all'aperto e le bancarelle dove fare shopping. E come sta andando Castione? Beh, Castione ha sempre meta di numerosissimi turisti, quindi anche quest'anno non abbiamo difficoltà a dire che possiamo essere soddisfatti dalle presenze. E come sempre le manifestazioni sono tantissime, per cui anche quelle accontentano ogni genere di richiesta, dagli incontri culturali ai concerti musicali. Mi viene in mente il primissimo domani sera, il concerto del coro La Presolana a Rusio, è sempre caratteristico quando viene fatto all'aperto. Grazie. Grazie.